Tagliando dei primi cento giorni sostanzialmente Piero Castrataro promuove l'operato della sua amministrazione e dà qualche anticipazione che fa capire in che direzione vuole andare il sindaco di Sernia alle prese con la prima piccola crisi politica della sua maggioranza. Tensione e mal di pancia collegati alla posizione di Leda Ruggiero, esponente di azione, un partito che con PD e Movimento 5 Stelle ha poco a che fare. Castrataro dice che sarà la stessa Ruggiero a comunicare le sue decisioni facendo capire, anche se non lo dice chiaramente, che la sua assessora ha intenzione di dimettersi dalle cariche di partito. Questa cosa sarà comunicata a breve, chiaramente non da me. La questione per me era risolta all'inizio, giustamente c'è una questione politica che è stata posta da alcune forze che ho capito, però informalmente risolta, formalmente lo sarà brevissimo. La giunta rimane quella che è e io ho piena fiducia negli assessori che ci sono. Per l'aumento delle indemnità e l'allargamento della giunta, con conseguente crescita dei costi, anche qui il sindaco trova una via di fuga. Entro breve tempo l'esecutivo destinerà parte dei soldi riscossi da sindaco e da assessori ad un non meglio precisato fondo sociale. Io dico tranquillamente che anche in questo settore a breve tutta la giunta varierà un documento in cui diremo come una parte delle risorse, diciamo che dei costi in più, così come sono stati detti, verrà destinata a dei progetti sociali. Lo faremo tramite il comune, lo faremo anche tramite la fondazione e credo che sia un bel messaggio per tutta la città. Infine la politica regionale, qui Castrataro non si nasconde, anzi dice chiaramente che resterà a fare il sindaco ma che vede con piacere la nascita di una lista civica regionale sulla stregua di Isernia Futura che però non abbia commistioni. Come ho detto già in tv o più volte io rimango al comune di Isernia sicuramente appoggerò una lista civica che credo si formerà in tutta la regione questa lista civica non potrà essere assolutamente composta da chi compone attualmente la maggioranza in regione, non potrà essere composta assolutamente da da quel movimento civico di cui ha accennato l'europarlamentare Aldo Patriciello e sarà l'espressione della società civile e credo che anche in regione serve a questo. Lavorerò per questo ma lavorerò semplicemente da sindaco di Seno. E per Castrataro chi potrebbe essere il potenziale candidato presidente di questa lista civica? Mai, poi potrebbe essere un politico come potrebbe essere una persona della società civile. Io lavorerò affinché anche in quel caso diciamo la persona scelta sia condivisa dalle più ampe forze che sposano un progetto che è quello di rinnovare la regione.